Quei passaggi a livello che fanno discutere. Sulla via generale Cascino all'uscita per Acate ed in via Cavalieri di Vittorio Veneto all'ingresso della città per chi proviene da Comiso, ci sono due passaggi a livello che in alcune ore della giornata bloccano l'accesso alla città di Vittoria. Fa eccezione il passaggio a livello di via Diaz perché lì c'è invece un cavalcavia che permette di far defluire diversamente il traffico viario. Da tempo le amministrazioni comunali, ma anche i privati cittadini, si occupano della questione e chiedono che il problema venga risolto. Anche perché spesso le ambulanze rimangono bloccate sia l'entrata che l'uscita e si perdono minuti preziosi che potrebbero salvare una vita umana. Questa mattina il sindaco Giuseppe Nicosia ha incontrato a Roma i vertici di Trenitalia per cercare una possibile soluzione. Si è convenuto sulla possibilità che il Comune predisponga uno studio di fattibilità per l'eliminazione dei passaggi a livello. Una soluzione possibile potrebbe essere la realizzazione dei sottopassi. Poi bisognerà trovare i finanziamenti per realizzare l'opera. Sempre stamane il sindaco ha avuto un secondo incontro con i vertici ANES. Sul tappeto la necessità di migliorare la viabilità sia in direzione di Catania che in direzione dell'autostrada Siracusa-Gela e dell'aeroporto. Si punterà ad un accordo comune-stato-regione per trovare buone soluzioni anche sulla base del buon lavoro di progettazione realizzato dalla provincia. I due incontri, entrambi concordati dal senatore Lumia, puntano ad un obiettivo. Far uscire vittoria dall'isolamento e favorire anche il traffico delle merci che provengono dall'ottomercato. La città in un momento di crisi ha bisogno anche di questo per migliorare la propria economia.